L'Associazione Radicali Bologna oggi sta raccogliendo le firme per i contributi silenti. Giovedì 6 ottobre saremo dalle ore 10 fino a l'una davanti all'Ips con un presidio, sempre per raccogliere delle firme e per sensibilizzare tutta la popolazione italiana su questo problema dei contributi silenti. Cosa sono i contributi silenti? Sono dei contributi che una serie di categorie versa allo Stato, ma che se alla fine della propria vita lavorativa non si riesce a raggiungere con questi contributi la quota minima per ottenere la pensione, i contributi versati rimangono allo Stato e non c'è assolutamente la possibilità di ottenere la restituzione di questi contributi. Noi abbiamo presentato una proposta di legge a firma di Maurizio Turco e sottoscritta anche da tutti gli altri deputati radicali per fare in modo che questi contributi vengano restituiti legittimamente ai cittadini. Quindi lo Stato non è Robin Hood, lo Stato è uno Stato ladro, la partitocrazia deve essere, come dire, non dico abbattuta, ma la partitocrazia bisogna fare in modo che in questo Stato vengano effettuate delle riforme profonde e questa sui contributi silenti è una delle più importanti.